Partirà il 3 settembre contro il Trento il campionato della Triestina. Ieri sono stati illustrati i calendari della serie C Girone A. L'Unione farà il suo esordio in casa e chiuderà il suo cammino il 28 aprile in trasferta contro il Padova. Nel proprio girone i Rosso Labardati incontreranno formazioni già affrontate, come lo stesso Trento, Virtus Verona, Renate, Vicenza, Albino Leffe, Legnago Salus, Arzignano, Novara, Mantua, Padova, Pergolettese, Pro Sesto, Pro Patria, Gianna Erminio e Pro Vercelli. Ma si troverà di fronte anche l'Alessandria, l'Atalanta Under 23, il Fiorenzuola e il Lumezzane. Le sfide più sentite neanche a dirlo contro il Vicenza. Andata il 22 ottobre in casa, ritorna il 25 febbraio. E il Padova, ultima giornata d'andata il 23 dicembre, chiusura del campionato, come detto, il 28 aprile. Allo stesso tempo la società ha pubblicato sul proprio sito internet anche i prezzi della campagna abbonamenti, chiamata Una Cosa Sola. La campagna sarà distinta in due fasi, una di prelazione fino al 16 agosto per chi ha sottoscritto la tessera nel campionato scorso e la vendita libera che avrà invece inizio il 17 agosto, con possibilità di acquistare la tessera anche online. I vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto o, nel caso della tribuna con la Ussi, sceglierne uno nuovo nella parte alta dal momento che in questa stagione la gradinata verrà completamente aperta. Le categorie di prezzo saranno intero, intero ex abbonato, ridotto, riservato a donne, over 65, portatori di handicap con invalidità certificata inferiore al 75%, family, riservato a due genitori con figlio fino a 11 anni, genitore figlio o nonno e nipote, adulto e bambino fino a 11 anni, muleria, riservato dai 12 ai 21 anni compiuti e agli studenti universitari muniti della relativa documentazione, e prezzo cortesia, bambini da 0 a 11 anni e portatori di handicap con invalidità certificata superiore al 75%. Ecco i dettagli dei prezzi, curva Furlan, intero 100 euro, intero ex abbonato 90 euro, ridotto 70, family 150, genitore figlio o nonno e nipote 120 euro, muleria 60, cortesia 30 euro. Tribuna con la Ussi, intero 130 euro, intero ex abbonato 120, ridotto 110, family 180, genitore figlio o nonno e nipote 150 euro, muleria 90 euro, cortesia 40, tribuna pasinati, intero 180 euro, intero ex abbonato 150, ridotto 140, family 250, genitore e figlio o nonno e nipote 220, muleria 120, cortesia 60 euro. Infine la tribuna VIP, diamante 1200 euro, l'abbonamento comprende un posto autocoperto e il buffet in area hospitality, abbonamento acquistabile solo presso la sede societaria.